C'è ancora un'infermazione? C'è ancora? Quindi da 10 minuti dove si metterà il cuore? Solo 7 e un quarto? Sì, grazie. Ma oggi è venerdì. Cosa? Eh sì. Che giorno è oggi? Venerdì. Allora, ripilogando, sifone terminale. Sifone terminale di Livore d'Orie, nel 155. Partito. Allora. 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 È sparito del nulla. Allora. Eccolo. Grande. Superato. Superato? Sì. È un passaggio stupido? Eh? È un passaggio stupido? Sì, è un passaggio stupido. Quanto sarà lungo? 20 metri. 20 metri. Profondo 4. E di là? Eh? Di là? E di là? Cazzo. Quanto 30 metri? C'è una risalita stupida di 3 metri. Ma no. Io lì dentro è un po' più cioccolato, ma eh. Superato. Bravo, bravo. Vai. Quali sono gli ambienti di là? Cosa ha? Gli ambienti di là? Come sono? Uguale. Uguale ma ci stanno le salite sopra. C'è una prodotta tonda di 2 metri di diametro. Poi, con la suggestione sentivo anche un torrente di là, però secondo me ha ragione. Però molto. Senti di accorto a vede, eh? Eh. Accorto a vede, senti di? Sì. Però di là c'è una risalita stupida. Bisogna portare il 2 a me col tempo lo staglio per entrare. Però vi dà una buona notizia. Però per i popoli sono quasi ancora pieni e li lasciamo qua. Wow! Voi, questo viva! Questo! No!